Il Movimento 5 Stelle, io saluto di nuovo Dell'Orco, in questi giorni Di Maio ha detto le liberalizzazioni hanno impoverito i negozianti, hanno sfasciato le famiglie. Un po' esagerato o no? Dell'Orco? Il problema è che io penso alla madre con un bambino piccolo che è costretta a lavorare alla domenica e magari i soldi che guadagna li usa per pagare una babysitter che gli tiene il bambino. E oltre ai lavoratori ovviamente è un problema anche per i negozianti perché il negoziante che deve tenere aperto invece che solo 6 giorni, 7 giorni su 7 non è che venderà più prodotti e le persone acquisteranno più cose perché le persone non è che se è aperta anche tutte le festività e tutte le domeniche acquistano più pantofole, più scarpe o più spazzolini da denti semplicemente diluiranno gli acquisti da 6 a 7 giorni. Quindi per il piccolo negoziante, soprattutto immagino quella conduzione familiare fatto da padre, madre e figlio nel centro storico non ci sono maggiori ricavi, però ci sono maggiori oneri perché tenere aperto un giorno alla settimana in più vuol dire più spese di elettricità, rotazioni di personale e spese di apertura in generale. Quindi semplicemente maggiori costi e chi ne va a beneficiare? Le grandi distribuzioni, grossi centri commerciali che possono far fronte a tutti questi maggiori costi. Mauro Antonelli. Tutto falso, nel senso che intanto la legge non obbliga nessuno ad aprire. Quindi prima questione. Quindi chi vuole apre, quindi lì c'è il titolo Natale con i tuoi, Pasqua dove vuoi. Quindi chi vuole apre, chi non ha convenienza ad aprire può assolutamente restare chiuso. Si può aprire 365 giorni all'anno. L'unica liberalizzazione che è stata fatta e le liberalizzazioni è esattamente l'opposto di quello che dice l'onorevole Di Maio. Le liberalizzazioni sono mancate in questo paese e se c'è un motivo per cui in Italia abbiamo le banche, l'assicurazione, la luce, il gas, i telefoni, la benzina più care in Europa oltre che per le troppe tasse è perché non sono state fatte le liberalizzazioni. Noi abbiamo commesso l'errore di privatizzare, quindi rendere privato ciò che prima era pubblico, trasformando gli ex monopolisti in oligopolisti privati e questo ha aumentato i prezzi e quindi è stato il problema proprio delle mancate liberalizzazioni che ha ridotto sull'astico sia le famiglie che le imprese perché poi le imprese italiane se pagano di più di una tedesca perché quando fanno un mutuo pagano di più di una tedesca, quando assicurano gli impianti pagano di più di una tedesca, quando pagano la luce e il gas pagano di più di una tedesca, è chiaro che la battaglia per la competitività è persa ma le liberalizzazioni in questo paese non ne fa nessuno, neanche meno il governo Renzi che da due anni ha depositato il DDL concorrente e il disegno di direzione sulla concorrenza che tra l'altro non è mai stato approvato e fa talmente schifo che probabilmente sarebbe meglio non approvarlo che andrebbe addirittura meglio per gli italiani. No se posso un attimo replicare perché sono in collegamento quindi ogni tanto vai e viene la voce, però ho sentito è ovvio che sono d'accordo che non è obbligatorio tenere aperto durante le festività, però se io sono un piccolo negoziante del centro storico e ho a due chilometri un grosso centro commerciale che tiene aperto anche a Natale, Pasqua, festa della liberazione eccetera, io sono indirettamente obbligato a tenere aperto. Ma non è vero, ma non è vero, ma non è lavoro asco. Scusate, ritorno sulla nostra parentesi del ferrarista perché mi stava facendo notare dell'orco, cioè voi avete come dire espresso la parte dei commercianti ma i consumatori molti se non vanno la domenica vanno su internet magari. Il problema in realtà non c'è, perché parlando concretamente della legge a cui ha fatto riferimento il mio collega Di Maio, stiamo parlando di una legge che è stata approvata alla Camera, votata da tutti i partiti, compreso il Movimento 5 Stelle che l'ha sponsorizzata, ora è ferma al Senato, ma di cosa parla questa legge? Non parla né dell'e-commerce, ma soprattutto non parla, dato che è frutto di un compromesso, nemmeno di domeniche, non le va a toccare. Chiede semplicemente che gli enti locali, quindi comuni e regioni, i territori, indichino sei giorni obbligatori di chiusura nelle principali festività civili e religiosi, quindi non stiamo parlando di domenica, ma perché deve essere il sindaco a decidere quando io commerciante devo tenere aperto, me lo spiega? E inoltre se mi fa parlare, se non mi parla sopra, altrimenti sono anche in collegamento ma mi spieghi perché deve essere il sindaco a decidere e non io commerciante, perché deve essere il sindaco a decidere se posso tenere aperto, perché tornate a parlare di territori, ha capito la domanda. Sì, se mi fa parlare ho capito, grazie. Il sindaco indica sei giornate di chiusura, faccio un esempio concreto, il comune di Rimini che magari ha turismo estivo deciderà di chiudere a Natale piuttosto che Capodanno, mentre il comune del Trentino che ha turismo invernale deciderà di chiudere magari a Ferragosto. In questa legge, oltre a queste semplici sei chiusure che è proprio buon senso minimo, c'è un fondo, quindi degli aiuti economici per le piccole imprese italiane. Maria Teresa, 18 milioni all'anno per 5 anni. Se il sindaco decide, mi teneva aperto a Natale, scusi. Sì, ma non mi può parlare sopra ogni 3 secondi. Lei quindi sta dicendo che è un commentante. Voglio sentire Maria Teresa.